Termina stasera la Summer Edition dell'evento centrale del progetto Agora Contemporanea, Festival delle Identità Culturali, giunto quest'anno alla terza edizione. La Cinque Giorni, che segue altri due importanti appuntamenti previsti dal Festival Fest Med dell'Aurino Jazz, realizzati tra luglio e i primi giorni di agosto, rappresenta la sintesi di un percorso musicale volto ad aggregare anche per questa edizione un sistema di offerta turistica territoriale qualificata, che è iniziato a luglio e che si concluderà a dicembre con la Winter Edition di Vallo Città della Musica. Apprezzatissimo anche ieri il concerto ensemble per Golesi con la voce solista di Gianluigi Esposito in Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania. Stasera invece toccherà al quintetto di Marco Sannini. Agora Contemporanea rappresenta dalla sua prima edizione un'idea del tutto nuova e sicuramente di grande valore sociale per il territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, poiché l'obiettivo principale del progetto è la creazione di un'identità di aria vasta al fine di proporre il territorio cilentano sul mercato nazionale ed internazionale, con un'offerta strutturata e coerente con le finalità dell'evento. Grazie a tutti.